Le case popolari di via Bruno Bozzi a Bari, paladine della lotta contro lo spreco di energia. Si chiama VAT-IN, il progetto pilota sul risparmio energetico domestico promosso da Regione Puglia, Osservatorio regionale della condizione abitativa e Istituto autonomo case popolari. L'iniziativa, che coinvolge 84 famiglie residenti in tre palazzine, prevede dal 1 novembre l'uso di un preciso strumento di calcolo per l'autodiagnosi del consumo energetico, unito ad un decalogo di buone pratiche da seguire per una corretta condotta energetica. L'esperimento terminerà il 1 dicembre. Per i più virtuosi è previsto un premio. Sarà consegnata una bicicletta per ogni famiglia residente nella palazzina che avrà risparmiato di più. La sostenibilità richiede un pensare globale, perché il pianeta che è in crisi è un agire locale. Spesso l'agire locale è il punto più debole. Siamo consapevoli dei problemi del pianeta, ma non riusciamo a realizzare delle buone pratiche anche nel microambito di una famiglia per migliorare il benessere di tutti. In questo caso è particolarmente importante il risparmio energetico.